Nei giorni scorso il gruppo Arvedi ha portato a termine le operazioni di manutenzione straordinaria dell'Alto Forno numero 3 della Ferriere e ha ripreso come previsto la produzione di ghisa dopo l'annunciata fermata di circa 30 giorni. Ogni fase di questo processo di fermata e riavvio è stata comunicata ai tecnici dell'ARPA. Tale fermata è stata utile anche per apportare significative migliorie alla strumentazione di monitoraggio e automazione del processo produttivo, oltre che di controllo dello stato tecnico. E' stato inoltre revampato il sistema di gestione dell'alimentazione dell'aria comburente. Oltre a ciò sono stati sottoposti a revisione gli impianti di aspirazione e depolverazione del processo di ghisa e agglomerazione. Ancora nell'area caldo è avviato l'iter per la realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione acustica, secondo quanto previsto dalle prescrizioni ricevute dai preposti organi di controllo. In merito all'area freddo, Ferriera ha avviato la formazione del personale da poco assunto che acquisterà le competenze necessarie alla conduzione dell'impianto, dopo il consueto periodo di addestramento svoltosi presso lo stabilimento di Cremona su un impianto analogo già in produzione. Ad oggi, nel nuovo reparto propedeutico alla rilaminazione a freddo, sono state assunte nelle ultime settimane oltre 20 persone ed è previsto l'inserimento di ulteriori otto operativi entro inizio agosto. Sono previste poi ulteriori risorse tecniche dedicate al controllo di processo in cocheria e alla garanzia di qualità in laminazione.